Buongiorno, siamo Dado e Peppe Ecco, bravo, bravo Allora, questo qua è un rovo di presentazione Ecco, c'è il mio fratello che urla come un... come un pelle Allora, comunque passate dei tuoi canali che ci sono collerati Ehm, poi Peppe cosa vuoi dire di altro? Io dico ciao, bravo Ok, però noi abbiamo fatto due intro e outro Questa qua è la prima intro L'avremo anche caricata L'abbiamo caricata e poi abbiamo caricato pure l'altro Che è questa Ehm, fateci sapere se vi piace e ciao